Ci sarà un seguito processuale nel caso di un omicidio che risale ormai a 33 anni fa. La difesa del collaboratore di giustizia niscemese Antonino Pitrolo ha depositato l'appello dopo la decisione emessa dal GUP del Tribunale di Milano. Pitrolo è stato condannato ad otto anni di reclusione per l'omicidio del gelese Cristoforo Verderame. Venne freddato nel piazzale di un istituto scolastico di San Giuliano milanese mentre la faida tra Stide e Cosa Nostra era arrivata nell'Interland Lombardo. Fu Pitrolo ad ammettere le proprie responsabilità e a chiamare in causa il boss Antonio Rinsivillo ritenuto mandante di quell'azione di morte. Rinsivillo ad inizio mese è stato però assolto dai giudici della Corte d'Assise di Milano. I magistrati non hanno individuato elementi precisi per collegarlo all'agguato ritenendo insufficienti i particolari raccontati dai collaboratori di giustizia. Le difese sostenute dagli avvocati Flavio Sinatra e Deliana Zecca hanno sempre sostenuto le stranetà ai fatti del 63enne. Il difensore di Pitrolo, l'avvocato Maria Assunta Biondi, ha scelto di rivolgersi ai giudici della Corte d'Assise d'Appello, probabilmente rispetto all'entità della pena impostagli nonostante la sua collaborazione e la piena ammissione dei fatti. Ai giudici di appello si sono rivolti anche legali di parte civile che assistono i familiari di Verderame. Il GUP gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e una provvisionale. Gli avvocati Carmelo Tucci e Giuseppe Simonetti hanno impugnato ai soli fini civilistici.